Ultime ore di campagna elettorale fino a mezzanotte per il referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento. Si vota domenica e lunedì fino alle 15. La battaglia è sul raggiungimento del quorum per rendere valida la consultazione popolare. L'annuncio di Berlusconi del varo entro l'estate della riforma fiscale raccoglie le critiche di D'Alema. Siamo talmente subissati dagli annunci del governo, dice che non prendiamo più sul serio il Premier. Se sono cose serie daremo il nostro contributo, afferma Casini per il terzo polo. Il ministro dell'Interno Maroni vara una task force contro le combine nelle scommesse sportive. Intanto da questa mattina viene interrogato l'ex portiere della Cremonese Paoloni, considerato il perno del sistema delle scommesse truccate. Il ministro degli esseri Frattini richiama temporaneamente a Roma l'ambasciatore italiano in Brasile. La mossa della Farnesina arriva dopo la decisione del Tribunale Supremo brasiliano, che ha negato l'estradizione di Cesare Battisti e lo ha scarcerato. La fonte dell'epidemia di Escherichia-Coli è molto probabilmente nei germogli di fagioli, lo ha dichiarato il direttore dell'Istituto Koch di Berlino. La Germania dichiara il cessato allarme sul consumo di cetrioli, insalate e pomodori crudi. 30 le vittime e quasi 3.000 i contagiati in Europa dal batterio Kine. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. In primo piano dunque le ultime ore di campagna elettorale per i referendum popolari del 12 e del 13 giugno, di domenica e lunedì prossimo, con iniziative anche spettacolari dei comitati promotori impegnati per il raggiungimento del quorum e con dichiarazioni di voto e non voto. Sono infatti 47 milioni gli italiani che sono chiamati alle urne, appunto domenica e lunedì prossimo, per esprimersi sui quattro quesiti referendari, due, lo ricordiamo, sull'acqua pubblica, uno sul legittimo impedimento e infine quello sulle centrali nucleari. Francesca Todini. Ultime ore di campagna elettorale per i referendum del 12 e 13 giugno prossimi. Resta aperta la questione del voto degli italiani all'estero, che si sono espressi su un quesito sul nucleare diverso da quello deciso dalla Cassazione. Una decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, mentre il grande dilemma è se sarà o meno raggiunto il quorum. Ieri il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha annunciato che non andrà a votare. A stretto giro è arrivata la risposta del leader del PD, Bersani, che ha commentato. Alle urne si recheranno invece gli italiani. Per Antonio Di Pietro, tale dei valori, il Premier continua a comportarsi come uno che non ama la democrazia. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, afferma che a stenersi è legittimo, anche se è sbagliato confidare nel mancato raggiungimento del quorum per bocciare i quesiti. Quorum che Fini si augura venga veramente raggiunto. Se Berlusconi non va a votare la ragione giusta per andare noi, prende posizione l'Udc Casini. Nichivendo la sinistra, Ecologia e Libertà, mobilita tutti via Facebook. Come si vede a mobilitarsi sono soprattutto le forze che intendono far raggiungere ai quesiti il quorum. Oggi ci sono state iniziative di Greenpeace in varie città italiane, tra le quali Roma e Firenze. Gli attivisti della Pace Verde si sono messi in mostra con scalate simboliche e cartelloni sui monumenti più famosi d'Italia per dire no al nucleare. E sul fronte della maggioranza è sempre la riforma fiscale, il taglio delle tasse, il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi per il rilancio del governo. A questo proposito il Premier sembra avere trovato un compromesso con il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Vediamo quale nel servizio di Andrea Molino. Compromesso o tregua. L'annuncio di Berlusconi che il governo varerà la riforma fiscale entro l'estate segna il punto di equilibrio tra le esigenze del Premier di rilanciare l'azione del governo e le proprie possibilità di restare in sella e quelle di Tremonti di tenere il fede agli impegni europei. Un sentiero stretto che Berlusconi prova a percorrere per tentare di recuperare terreno dopo lo schiaffo delle amministrative. La riforma fiscale, cavallo di battaglia al 2001, segna apparentemente un punto a favore del Premier nella guerra di posizione contro il suo Ministro dell'Economia e stando alle cronache avrebbe vissuto negli ultimi giorni una delle fasi più acute. La riforma però, questa è la condizione posta da Tremonti, sarà a costo zero nel senso che le risorse per un abbassamento della pressione fiscale non andranno ad aumentare la spesa. E poi la riduzione fiscale che comincerà in estate il suo cammino andrà di pari passo con la manovra di rientro dal debito che l'Europa pretende e che da qui al 2014 costerà almeno 40 miliardi di euro. Sua riforma del fisco le opposizioni si dicono pronte a collaborare ma prevale lo scetticismo. Berlusconi trucca le cifre, taglia corto Massimo D'Alema. Siamo talmente subissati di annunci del governo che siamo abituati a non prenderli sul serio. Sono tre anni che ascoltiamo sul fisco operazioni demagogiche di facciata, aggiunge il leader di Ciccasini. Aspettiamo di vedere le carte, se non sono fumogeni ma cose serie daremo un contributo costruttivo. Ma prima del varro della riforma fiscale il governo è atteso alla prova della verifica parlamentare richiesta dal capo dello Stato dopo l'ingresso al governo dei nuovi sottosegretari. L'appuntamento più delicato, quello di Montecitorio, è fissato al 22 giugno ma per Berlusconi non sarà necessario un nuovo voto di fiducia. Napolitano nella sua lettera parlava solo di verifica in ogni caso non abbiamo timore di nulla, ha spiegato il Premier. Intanto Gianfranco Miciche ha ufficializzato ieri dopo l'incontro a Palazzo Grazioni la sua uscita dal PDL per il progetto Forza del Sud al quale aderiscono una quindicina di parlamentari. Vogliamo condizionare la maggioranza come fa la Lega, ha spiegato Miciche che si è detto pronto a lasciare la sua poltrona di sottosegretario. Vediamo adesso nel servizio di Paolo Luzzi quali sono più nel dettaglio le misure promesse da Giulio Tremonti a Silvio Berlusconi. Confermata la manovra da 3 miliardi necessari a finanziare nel 2011 le emissioni di pace all'estero e a garantire la stabilità dei conti avallata per il nostro paese da Bruxelles, il Premier Berlusconi ritiene di avere ora finalmente la possibilità di dare una prima attuazione alla riforma del fisco promessa in campagna elettorale. Occhè del Ministro Tremonti ad anticipare alcune norme previste per l'autunno ma esclusivamente quelle a costo zero che non comportano cioè spese per lo Stato. Il cuore della riforma che vale circa 10 miliardi di euro resta il graduale riequilibrio del prelievo tra le imposte dirette e quelle indirette poi il riordino delle agevolazioni fiscali, gli sconti concessi a vario titolo a imprese e cittadini che comportano una dispersione di denaro superiore a 150 miliardi di euro l'anno. Nel primo caso si tratta di ridurre le tasse ai lavoratori e pensionati aumentando l'IVA sui beni. La riforma prevederebbe dunque di elevare di un punto percentuale l'IVA dal 20 al 21%, lo stesso aumento riguarderebbe quella agevolata dal 10 all'11%. Questa correzione servirebbe a compensare il minor prelievo che la riforma intende attuare sulla prima liquota dell'IRPEF che si applica per gli scaglioni più bassi, ossia chi guadagna meno di 15 mila euro l'anno. In questo caso l'IRPEF scenderebbe dal 23% attuale al 20%. Al vaglio del governo ci sarebbero poi le 480 forme di agevolazioni fiscali in vigore nel nostro paese, difficile invece toccare detrazioni in vigore per carichi familiari, pensionati, ristrutturazioni edilizie, scuola privata o sanità scelte troppo impopolari. Per questo la riforma rischia tempi lunghi, la delega del governo arriverà prima dell'estate e probabilmente nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri a fine giugno ma per il via libera del Parlamento ci vorranno mesi per la vera attuazione anche di più. E continua a suscitare in Italia molte polemiche la decisione del Tribunale federale di Brasilia di liberare Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso condannato all'ergastolo per quattro omicidi. L'atmosfera tra l'Italia e il Brasile tra i due paesi è molto detesa per questo il Ministro degli Esteri Frattini ha deciso di richiamare temporaneamente in Italia il nostro ambasciatore, Luca Del Rey. La Farnesina vuole approfondire gli aspetti tecnico-giuridici che regolano i rapporti tra Italia e Brasile. All'indomani della sentenza che a Brasilia ha evitato l'estradizione e ridato la libertà a Cesare Battisti il Ministero degli Affari Esteri italiano ha già iniziato lo studio di tutte le iniziative e dei ricorsi da avviare nelle sedi giurisdizionali internazionali su tutte la corte dell'AIA a cui ieri ha fatto riferimento anche Silvio Berlusconi. Per questo la Farnesina ha richiamato a Roma per consultazione il nostro ambasciatore in Brasile, Gerardo La Francesca. In Italia Battisti dovrebbe scontare l'ergastolo perché colpevole di quattro omicidi, di rapina, sequestro di persone a detenzione ed uso di armi. Tornato libero dopo la sentenza emessa due giorni fa, Battisti ha trascorso la sua prima notte in un albergo e ha già presentato la richiesta di un visto di soggiorno permanente alle autorità brasiliane. Il suo caso ora sarà esaminato dai consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Immigrazione il prossimo 22 giugno. Per tornare alla sentenza, nessun commento da parte dell'ex presidente brasiliano Lula da Silva, avvicinato dai giornalisti durante una manifestazione pubblica ieri a Curitiba. Fu proprio lui, Lula, lo scorso 31 dicembre, nell'ultimo giorno della sua presidenza a respingere la richiesta italiana di estradizione per Battisti, decisione poi ribadita dal suo successore, la presidente Gilma Rousseff. E l'altro grande e importante argomento della cronaca di queste ore è lo scandalo del calcio scommesso e questa mattina c'è stato un incontro, un vertice al Viminale tra il ministro Maroni, il presidente del CONI Petrucci e quello della Federcalcio a Bete. Al termine di questo incontro è stata comunicata la creazione di una unità investigativa per mettere fine alle combine e alle scommesse clandestine nel calcio ma anche nell'Ippica. Vediamo il servizio di Francesco Izzi. È nata la Task Force come risposta operativa che deve mettere insieme tutte le risorse combinando le istituzioni con il mondo dello sport. Il ministro dell'interno Maroni, il presidente della Federcalcio a Bete e quello del CONI Petrucci hanno concretizzato questo obiettivo con la creazione del LUIS, unità investigativa scommesse sportive al cui interno ci sarà anche l'Unire per il mondo dell'Ippica e il Ministero dell'Economia. Una sorta di collettore di notizie sul modello dell'osservatorio contro la violenza negli stadi. È un sistema che creiamo oggi e che deve mettere in sicurezza gli eventi sportivi dal punto di vista della manipolazione sul fronte delle scommesse. Lo scopo quindi di questa unità investigativa è di raccogliere tutte le informazioni che oggi vengono inviate per esempio alla FIGC dai monopoli di Stato. La FIGC non ha però le competenze, le strutture per fare gli strumenti, per fare quelle attività investigative, strumenti che invece noi abbiamo. E se c'è il sospetto che queste informazioni messe assieme abbiano determinato una combinna si fa l'attività investigativa con il gruppo specializzato del Ministero dell'Interno. Lunedì prossimo Maroni firmerà il decreto. In Italia il giro di scommesse per gli eventi sportivi è di 6 miliardi, il cui 4,4 si riferiscono al mondo del calcio e gli altri alle corse di cavalli. Dal dicembre 2008, ha detto il Ministro, i monopoli hanno segnalato 38 eventi con un flusso anomalo di scommesse. D'ora in poi queste segnalazioni andranno all'unità investigativa, dove si valuterà se ci sia necessità di approfondimenti con la collaborazione anche della DIA per l'antimafia. Ma particolare attenzione verrà dedicata anche alle scommesse all'estero. La necessità di costituire un network europeo di rilevazione delle anomalie su tutti gli eventi sportivi, sul modello che stiamo attuando adesso in Italia. E sul fronte dell'inchiesta della procura di Cremona sul calcio scommesse, quella di oggi è stata una giornata importante, infatti è stato interrogato Marco Paoloni, l'ex portiere del Cremonese e poi del Benevento, accusato di avere somministrato tranquillanti ai calciatori della sua squadra. Patrizia Viola. La discesa in campo oggi è da un blindato della polizia penitenziaria. In carcere da dieci giorni, Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese, ora al Benevento, è arrivato in tribunale a Cremona poco prima delle 11. Maglia bianca e pantaloni militari. Il ragazzo, malato di gioco e scommesse, sta affrontando il suo primo vero interrogatorio davanti al procuratore capo Roberto Di Martino. Una settimana fa, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Guido Salvini, il portiere 27enne si avvalse della facoltà di non rispondere. Una strategia abbandonata dopo pochi giorni di carcere. Durante un incontro con un consigliere regionale, Paoloni confidò di pensare ogni momento, giorno e notte, all'inferno in cui si era cacciato, sentendosi in carcere, finalmente fuori da un incubo. Da lui, il procuratore Di Martino, si aspetta risposte importanti, ad esempio come perché mise del narcotizzante nelle bibite dei compagni, prima di Cremonese Paganese il 14 novembre scorso, episodio scatenante dell'inchiesta Last Bet. E ancora Paoloni deve spiegare come funzionava il giro di scommettitori clandestini, che investendo decine e decine di migliaia di euro provava a truccare le partite di calcio. Nell'inchiesta, per la quale 16 persone sono finite in carcere o agli arresti domiciliari, gli inquirenti stanno lavorando come ad un puzzle, per mettere a sistema la messa di elementi, dati bancari, assegni e pizzini, stili gratte e vinci usciti dalle oltre 50.000 intercettazioni telefoniche. Sono pronto a sentire altri calciatori anche come indagati, aveva detto ieri Di Martino al termine degli interrogatori. Il boccone prelibato è la Serie A. Solo sensazioni, millanterie? Ci vogliono certezze, ha detto a voce alta il presidente federale Giancarlo Abete. Una c'è e l'ha messa nero su bianco in un esposto alla procura di Rome a quella della Federcalcio un giocatore del Sassuolo, Daniele Quadrini. L'11 maggio il calciatore raccontava di aver ricevuto telefonate da parte di uno degli arrestati in cui si faceva riverimento alle scommesse. Scommesse da Quadrini mai fatte. Viene fuori dunque che la FIGC sapeva tutto già prima degli arresti decisi da Salvini, targati il primo giugno. La notizia di questa mattina, Piero Fassino, l'attuale sindaco di Torino, dovrà essere risarcito per danni morali nell'ordine di 40 mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla tentata scalata dell'Unipol alla BNL. I fatti risalgono, lo ricorderete, al 2005 e riguardano la famosa telefonata tra Piero Fassino e Giovanni Consorte. Silvia Testa. Si chiude con un risarcimento per Piero Fassino e una condanna per l'imprenditore Fabrizio Favata la vicenda della famosa telefonata sulla tentata scalata Unipol alla BNL. Estate 2005, Giovanni Consorte, presidente di Unipol, informa dell'operazione Piero Fassino all'epoca segretario di S che commenta Abbiamo una banca. Qualche mese dopo, il 31 dicembre, quella telefonata finisce su Il Giornale, il quotidiano edito dalla famiglia Berlusconi. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore alla vigilia di Natale 2005 era andata ad Arcora insieme a Roberto Raffaelli, titolare della società che aveva effettuato le intercettazioni, per far ascoltare a Silvio Berlusconi la registrazione di quella telefonata. Per il gruppo di Milano Donadeo, Fassino deve essere risarcito per il danno di immagine politico causato dalla diffusione di un'intercettazione che invece doveva rimanere secretata nel cassetto degli inquirenti che stavano indagando sulla tentata scalata. Oltre a dover esarcire Fassino per danni morali con 40.000 euro, Favata, nel processo per rito abbreviato, è stato condannato a due anni e quattro mesi per ricettazione ed estorsione. Una settimana fa il giudice milanese ha mandato a processo, prima udienza il 4 ottobre, Paolo Berlusconi, fratello del Premier, per rivelazione di segreto d'ufficio, ricettazione, millantato credito. Nelle prossime settimane il giudice esaminerà invece la richiesta di archiviazione per il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Secondo il PM non vi è prova della materiale a ricezione della chiavetta contenente l'intercettazione della telefonata da parte del Premier. E adesso parliamo di Michele Santoro perché la puntata di ieri d'addio di anno zero ha avuto degli ascolti record, oltre 8 milioni di telespettatori e uno share del 32%. Sul futuro del giornalista che ieri appunto ha detto di volere restare a lavorare per il servizio pubblico ma potrebbe anche approdare sulla nostra rete la SET, sul suo futuro non c'è certezza. Luca Giannelli. Non era necessario avere una sfera di cristallo che gli ascolti per l'ultima, almeno per ora, la puntata di anno zero sarebbero stati del record, lo si vedeva anche così, ad occhio nudo. Caro Presidente Garimberti, se io fossi lei non mi preoccuperei di quello che sto per dire ma di quello che lei sta per fare per la RAI, perché ha ragione, io sono artefice del mio destino, ma chi è il vero artefice del destino della RAI? E questa è la domanda. 32,29% di share sul RAI 2 con un ascolto medio di 8.389.000 spettatori. Ma la notizia ora, più che il record di ascolti, è la polemica aperta con il Presidente Garimberti, obiettivo all'inizio e alla fine del discorso di Santoro. Mi piacerebbe che lei, che è artefice del suo destino, come io sono artefice del mio, ma dovremmo essere insieme artefici del destino della RAI, la facesse questa discussione nel suo Consiglio di amministrazione. E una buona volta vorrei capire se una trasmissione come questa voi la volete oppure non la volete. Non voglio portare in piazza i nostri colloqui diservati, perché voglio essere buono con lei, però vorrei che lei questa posizione la prendesse pubblicamente, ne discutesse col Consiglio. Adesso che siete liberi, adesso che i giudici non ci sono più dietro la porta, la volete o non la volete questa trasmissione, perché io non l'ho ancora firmato con nessun altro editore e quindi da domani, teoricamente, potrei essere disponibile a riprendere questo programma al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Non condivido, ha detto Garimberti, l'uso delle telecamere per parlare dei propri contrasti lo trovo fuori regola. E a proposito della possibilità ventilata dal giornalista di rivelare il contenuto dei loro incontri, il presidente della RAI ha osservato, non so se è una minaccia, comunque non la temo. L'epidemia di Escherichia coli, perché dopo giorni di notizie, di false notizie, poi dismentite, adesso i ricercatori, gli scienziati tedeschi hanno annunciato forse di avere trovato l'origine della diffusione del batterio killer, che ha già provocato oltre 30 vittime in Europa. Ebbene, non sarebbero né i cetrioli, né i germogli di soia, ma forse i germogli di altri legumi, in particolare quelli dei fagioli. Quindi cetrioli, pomodori e lattughe sarebbero dunque totalmente scagionati. Il servizio di Rossella Matera. Controordine, non più i germogli di soia, ma i germogli di fagioli, sarebbero questi la causa del batterio killer che in Germania ha provocato 29 vittime, a darne notizia Reinhard Burger, presidente dell'Istituto Sanitario Robert Koch, incaricato del controllo sull'epidemia. In una lunga riunione a Berlino con i responsabili dell'Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare e quelli dell'Istituto federale per la valutazione dei rischi, è stata fatta un'attenta analisi sulle persone che avevano avuto un malore dopo aver mangiato al ristorante. La conclusione è stata questa. La gente che ha mangiato i germogli di fagioli ha fino a nove volte di più la possibilità di avere dissenteria e altri sintomi che indicano la presenza del batterio rispetto a chi invece non li ha mangiati. L'epidemia di Escherichia coli finora ha ucciso 30 persone, 29 in Germania e una in Svezia, mentre sono oltre 2.800 i contagiati in cinque settimane. Tra questi 722 sono stati colpiti anche dalla sindrome emolitica uremica, una complicanza che può danneggiare in maniera irreversibile i reni fino alla morte. Le autorità tedesche sono talmente convinte di aver individuato la causa del contagio da scagionare definitivamente cetrioli, pomodori e lattuga e hanno annunciato la revoca del divieto di consumo per questi alimenti, divieto che ha comportato un danno per centinaia di milioni di euro agli agricoltori europei. La Russia intanto ha deciso di revocare il bando sulle importazioni di verdure dai paesi dell'Unione Europea, mentre in Italia continuano i controlli dei nas sui semi di legumi, erba medica, zucca e fieno greco. Infine una buona notizia, secondo gli istituti sanitari tedeschi, la fonte del contagio non sarebbe più attiva e il numero degli ammalati è in calo. In Libia, dove la situazione resta molto incerta, sul terreno si continua a combattere, mentre la Nato intensifica i bombardamenti su Tripoli e del Raiz non si sa molto e anche sul fronte della Nato ci sono delle perplessità, come ci racconta Damiano Ficoneri. Il segretario della difesa americana Gates, ormai uscente, lancia l'allarme. La missione Nato in Libia è a rischio. Gates lamenta, lacune, una mancanza di impegno politico, militare e finanziario da parte degli Stati membri. Una posizione che parte da lontano nei confronti di un sistema politico-militare dove storicamente l'Europa non ha mai pareggiato il contributo e gli investimenti in uomini e truppe di Washington. La parola di Gates piovono proprio mentre la Nato è impegnata nei più pesanti bombardamenti dall'inizio dell'operazione Unified Protectors. Nella notte, nuovi pesanti raid hanno colpito i dintorni di Tripoli. Resta comunque difficile capire i progressi sul campo. La linea di confine da giorni è bloccata nei dintorni di Brega, gli insorti non sembrano guadagnare terreno. A Bengasi però il consiglio di transizione si sta strutturando in un vero e proprio governo. Nei giorni scorsi hanno venduto la prima partita di petrolio per 1,2 milioni di barili agli Stati Uniti e dal vertice del gruppo di contatto ad Abu Dhabi arrivano i soldi per costruire una vera struttura politica militare. Si parla di un miliardo di dollari da garantire con gli asset congelati a Gheddafi. Sul piano diplomatico il segretario di Stato americano Clinton continua a ripetere ormai da lungo tempo che ci sono contatti con l'entourage del Raiz per una transizione che tutto appare tranne che prossima e si è conclusa anche la missione dell'inviato delle Nazioni Unite. l'ONU tira un primo provvisorio bilancio delle vittime e dall'inizio della rivolta sarebbero tra le 10.000 e le 15.000. Adesso torniamo a parlare di tasso, o meglio di lotta all'evasione fiscale per cui combatte l'Agenzia delle Entrate. Nel Mirino è finita anche questa storia di ordinaria evasione avvenuta nel centro di Venezia, Sonia Mancini. Sullo sfondo il campanile di Torcello è l'isola di Burano, alle spalle la parte più incontaminata della laguna. È qui, a Venezia, che quattro anni fa un sessantenne trevigiano e la sua compagna avevano deciso di convertire un capanno di pescatori, con tanto di rete a bilancia, in una locanda tradizionale con menù per turisti e comitive. Prezzo medio 35-40 euro. L'attività, pubblicizzata su siti internet specializzati italiani e stranieri, era stata avviata senza autorizzazioni, licenze o permessi, ma soprattutto senza versare un centesimo di imposte nelle casse dello Stato. 560.000 euro la cifra totale dovuta al fisco. I clienti pagavano in contanti e ricevevano scontrini, dunque tutto appariva assolutamente regolare. Peccato che persino la cuoca fosse stata assunta in nero. Ai piatti tipici della tradizione veneziana, l'ardito locandiere, lui stesso ex pescatore, aveva unito rigorosamente su prenotazione una gita tra gli scenari meno battuti dai turisti. Persino il New York Times nel 2008 aveva dedicato alla locanda ben due articoli con tanto di numero di telefono per aggiudicarsi pochi posti disponibili. Ma tanta pubblicità non è sfuggita all'attenzione degli uomini della Guardia di Finanza che, grazie ad appostamenti notturni, hanno scoperto la truffa. Stavolta, a rimanere nella rete, è stato l'intraprendente ex pescatore per il quale sono scattate numerose sanzioni penali ed amministrative. Per lo sport, il calcio, vediamo quali sono le ultime novità del calcio-mercato nel servizio di Daniela Comirato. Il Barcellona taglia i fondi previsti per le squadre giovanili e decine di ragazzini protestano fuori il Camp Nou. Il club più famoso del mondo, quello che ha vinto anche quest'anno la Champions League, non ha più soldi da investire nelle altre squadre non professionistiche. Un'ingiustizia, gridano davanti allo stadio dei campioni. Chissà sarà anche per questo che la società ha deciso di fare un passo indietro su Alexis Sanchez. 30 milioni sono troppi. L'attaccante più desiderato del momento sembra più vicino all'Inter. L'Udinese potrebbe cederlo in cambio di 20 milioni più l'intero cartellino di Santon. Snyder si è detto invece deciso a tenere la maglia nerazzurra, ma ecco che arriva la proposta di Murigno. Lo Special One vorrebbe Maicon al Real a tutti i costi, tanto da essere disposto a cedere in prestito Kakà. A Leonardo potrebbe piacere l'idea, anche se la forma psicofisica dell'asso brasiliano al momento non è certo al top. Lo scambio sicuro non piacerebbe al Milan. Galliani ha per Kakà una vera adorazione. Ma ai rossoneri serve un centrocampista di qualità. La Roma oggi accoglie Luis Enrique. Il tecnico a Trigoria intende cominciare a costruire il futuro dei giallorossi. In testa ai suoi desideri c'è sempre Bojan. Ma bisognerebbe strapparlo a Guardiola, operazione non facile. Si muove sul mercato anche la Juventus, ad un passo dalla difensore della Lazio Lick Steiner. I bianconeri vorrebbero anche l'attaccante dell'atletico Madrid, Aguero. E a proposito di Juventus, potrebbe tornare in Italia un grande ex, David Treseguet. Dopo una stagione in Spagna, il bomber è pronto ad andare a Napoli insieme allo svizzero dell'Udinese, Inler. Ed infine il Palermo, con l'argentino Pastore vicino all'addio al club di Zamparini, con Inter e Milan pronte ad ingaggiare un altro duello. Una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco di nuovo in studio. Bentornati in studio. Prima di chiudere, un aggiornamento dalla Siria, dove come ogni settimana, il venerdì, che è il venerdì di preghiera, è anche il venerdì della collera, della protesta contro il regime. Sono in corso moltissime manifestazioni in tutto il paese, la tensione è molto alta, ci sono scontri, feriti e morti. I testimoni oculari parlano di un numero imprecisato di feriti e morti. Il bilancio provvisorio di questi scontri in Siria contro le forze di sicurezza, contro i manifestanti si sarebbero scatenate a Kabun, un quartiere periferico della capitale di Damasco. Anche la televisione panaraba satellitare Al Jazeera parla di testimoni oculari, due manifestanti morti, un numero imprecisato di feriti, sarebbe questo il bilancio provvisorio di spari contro la folla di dimostranti, esplosi oggi da parte delle forze di sicurezza siriane nel paese. Era davvero l'ultima notizia, anche oggi vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.